Un cordiale saluto a tutti. L'appuntamento di questa sera vede la gradita presenza della dottoressa Giulia Salvo, ricercatrice in studio e conservazione dei beni archeologici e architettonici presso l'Università di Paolo. La ringraziamo per la sua cortese disponibilità. Una gradita presenza, ho detto, è anche ovviamente un gradito ritorno. Chi ci segue ricorderà infatti che nella tarda primavera dello scorso anno ci aveva proposto una bellissima conferenza su Raffaello nel cinquecentenario della sua morte, incentrata proprio sull'interesse di Raffaello, del grande pittore urbinante, per la cultura antica e la cultura artistica antica, che costituì anche fonte di ispirazione per il suo genio artistico. Il mondo antico che costituisce anche il background della conferenza di questa sera, l'orizzonte temporale in cui si colloca il tema, più leggero ma estremamente interessante, che è quello della cura della bellezza femminile. L'arte che vi fa belle sia segreta, le mille forme della seduzione femminile. Questo è il titolo della conferenza e emerge la figura di Ovidio, l'Ovidio dell'Arsa Amatoria, che offre consigli, suggerimenti alle donne romane e che si propone come un vero e proprio maestro dell'arte della seduzione. L'opera di Ovidio, quindi, che in questo contesto rileva nella sua dimensione quasi antropologica e che si conferma, se ce ne fosse bisogno, una fonte inesauribile di informazioni riguardanti gli usi costumi degli antichi romani. Ascoltiamo allora il racconto della dottoressa Salvo con interesse e curiosità. Prego dottoressa. Grazie, grazie Giuseppe e buonasera a tutti, anche da parte mia e come ho avuto modo di sottolineare, sì, questa sera sarà una presentazione un po' più leggera, un argomento un po' più leggero e spero, insomma, in qualche modo divertente. Su le donne e la bellezza secondo Ovidio. Perché sono partita da Ovidio? Perché parto e perché mi soffermo su Ovidio quando parlo di donne e di bellezza? Perché Ovidio è stato di fatto il poeta, uno dei più grandi poeti della latinità, che però lui, come nessun altro, è riuscito a indagare nel profondo l'animo femminile. Ed è riuscito a farlo con una sensibilità, con un'attenzione veramente difficili da trovare. Lui riesce a indagare le passioni dell'animo femminile, i sentimenti delle sue eroine. E tant'è che nelle sue opere, non solo quelle più dedicate, come avremo modo di vedere, al mondo femminile, al mondo delle seduzioni, ai rimedi per apparire più belle, ma anche all'interno delle sue opere legate, per esempio, al mondo della mitologia, come le metamorfosi, i veri protagonisti di fatto delle sue opere sono le donne. Nonostante all'interno dei suoi racconti di fatto il titolo di eroe spetti effettivamente ai personaggi maschili, e così sembrerebbe, in realtà gli eroi sono molto spesso adombrati da questi importanti, pesanti, tra virgolette, figure femminili, che occupano tutta la scena e sono in realtà loro che sostanzialmente muovono un po' i fili di questi eroi maschili, divenendo di fatto loro delle vere protagoniste. Quindi quasi gli eroi diventano un po' delle marionette mosse dalle figure femminili, che hanno il sopravvento, che detengono molto la scena. Quindi si assiste quasi un po' a una sorta di disgregazione della figura maschile nel momento in cui entra in contatto con la controparte femminile. E questo è un tratto peculiare di quasi tutti i racconti mitologici ovidiani, da Medea e Giasona, di Donenea, Tesariana, e potremmo continuare. Quindi Ovidio ha un'attenzione, una predilezione, diciamo una sensibilità veramente irraggiungibile verso il mondo femminile. E infatti Ovidio si preoccupa del mondo femminile e si preoccupa che le donne riescano a conquistare e ad avere la meglio sul mondo maschile, ad averla meglio inteso, a conquistare, a raggiungere l'oggetto dei propri desideri. Perché molto spesso le eroine della mitologia, dei suoi racconti mitologici, sono donne che a tutto rinunciano, a tutto sono disposte pur di seguire il proprio amato. Sono donne però che vengono tradite, abbandonate, rifiutate, eppure a tutto rinunciano per il proprio amore. E in realtà è un modo molto spesso, anche molto attuale, delle donne che pur un po' di seguire il proprio amore, rinunciano a tante delle loro cose. E una delle protagoniste più sfortunate dei racconti Ovidiani è sicuramente Arianna. Arianna che si innamora di Tesio, lo aiuta in tutte le sue imprese e poi però viene abbandonata a nottetempo da Tesio sulla spiaggia di Nasso e da lì tra l'altro il detto piantare in asso, viene abbandonata a nottetempo, Tesio fugge mentre Arianna dorme. Lui fugge sulla nave come raffigurato in una bellissima pittura pompeiana che vediamo qui e abbandona Arianna sulla spiaggia che poi la mattina si sveglia, riesce ancora ad intravedere la barca del fedifrago che si allontana e lei ovviamente si scioglie in un mare di lacrime. Sarà poi ritrovata da Dioniso e dal suo corteggio e Dioniso si innamorerà di questa bellissima fanciulla e lei la farà sua sposa, quindi c'è un po' un lieto fine. Però Ovidio per far sì sostanzialmente che le sue donne non subiscano la fine di Arianna, non vengano abbandonate, lui dice vi farò, vi istruirò io, cioè io vi dirò qual è la causa che vi perdete. Vi mancò l'arte, non sapeste amare, solamente con l'arte l'amor si è eterna. E quindi io vi insegno i trucchi, i modi per far sì che voi riusciate a mantenere il vostro amore. E diciamo il mondo dell'amore, della seduzione, della gioia di vivere viene cantato soprattutto nelle opere giovanili di Ovidio, l'ars amatoria prima di tutte, ma anche gli amores, i medicamina, i remediamoris che sono un manualetto divertentissimo su come appunto far fronte ai problemi dell'amore. Ovidio qua canta il mondo amoroso in tutte le sue forme, l'amore mondano, l'amore molto spesso adultero per fanciulle, matrone, schiave, liberte, ma anche l'amore come disciplina perché egli riesce in qualche modo a trasformare la passione e il desiderio in oggetti di didattica. Nelle vesti di un vero e proprio, diciamo, precettore, lui, Ovidio, istruisce sostanzialmente le fanciulle sulle migliori strategie per la conquista. Lui si cala nelle vesti del magister amoris e da una parte illustra agli uomini i vari stratagemmi per conquistare le donne e dall'altra illustra alle donne come tenere accesa la fiamma del desiderio e dispensa consigli vari su come apparire resistibili tramite trucchi, tramite abbigliamento, tramite l'acconciatura, tramite i gioielli. Sono numerosi i modi in cui il preceptor amoris, diciamo, offre e dispensa consigli e questi consigli coinvolgono diversi ambiti del mondo femminile e coinvolgono ovviamente prima di tutto l'aspetto fisico che viene inteso come cura del corpo e delle movenze insieme, ma anche le abilità legate alla musica, legate al canto, legate alla danza, quelle che, diciamo, potremmo dire, diciamo, i modi del saper vivere in società, ma anche la conoscenza dei più comuni giochi di intrattenimento, perché quelli erano fondamentali all'interno del vivere in società. Offre, diciamo, tutta una serie di indicazioni, di stratagemmi, di trucchi su come, in qualche modo, non mettersi in situazioni compromettenti nel quale non riuscire a uscire, oppure riuscire a trovare degli escamotage per scappare da situazioni che magari si stanno facendo molto complicate. Quindi, ecco, in questa, insomma, passeggiata che io vorrei fare questa sera, vorrei un po' con voi cercare in qualche modo di sbirciare dalle serrature, dalle fessure di porte semiaperte, dove indolenti matroni e indaffarate servette si muovono proprio per cercare di rendere più bella la propria donna, la propria matrona nel caso delle servette, oppure se stesse nel caso delle matrone, per andare incontri che molto spesso sono anche incontri clandestini. E Ovidio dà dei consigli, diciamo, a partire dalla base, cioè lui dà istruzioni dall'inizio fino alla fine del percorso, diciamo, di preparazione di una matrona o di una fanciulla. E ovviamente Ovidio non può che iniziare consigliando le donne ad avere cura del proprio corpo, quindi a rinfrescarsi, a fare attenzione, visto che si tratta di incontri galanti, quindi si presuppone ravvicinati ad avere cura dei denti, a sciacquare la bocca, che ovviamente parte importante, visto che era un incontro galante, viene data anche alla depilazione. E in effetti nel mondo antico, in età romana, c'era una schiava che era detta alla depilazione, l'ornatrix, che utilizzava una crema depilatoria che si chiamava Dropax, a base di resina, gomma d'edera, pece, grasso d'asina e polvere di vipera. Questo per la depilazione del corpo, ma era necessario anche fare attenzione alla depilazione ai peli superflui del viso e infatti venivano utilizzate delle volselle sia per, diciamo, definire meglio le sopracciglia, sia per eliminare altra peluria superflua del viso e le volselle sono delle pinzette bronze assolutamente simili a quelle che tuttora utilizziamo nel giorno d'oggi. E del resto, della tortura a cui, allora, come oggi, le donne romane si sottoponevano per apparire belle e piacenti, ci offre degli epigrammi gustosi anche Marziale, sancendo così come fosse una pratica assolutamente comune e diffusa. Tant'è vero che Marziale ci dice ogni qualvolta si spoglia per il bagno, e si cosparge di un verde depilatore e si impiastra di creta con l'aceto, che erano, appunto, anche queste, erano proprio delle cerette che poi venivano strappate e togliendo i peli superflui. A questo punto, dopo essersi lavata e depilata, era importante cercare, diciamo, di ringiovanirsi o comunque di curare la propria pelle con creme e mascheri di bellezza. Ovidio ci indica diversi rimedi per fare bello il viso delle donne. E tra l'altro ci illustra questi rimedi in un... Lars Amatoria è divertentissimo da leggere, perché lui, diciamo, da una parte dice alle donne mi raccomando, usate le creme e i rimedi di bellezza, ma mi raccomando che l'amante non vi colga mai con i vasetti delle vostre creme, perché lui racconta di un episodio divertentissimo di questa donna che aveva tutto il viso e la parte del collo e del décolleté cosparso di questa maschera di bellezza che però aveva un odore terrificante. Arriva in quel momento l'amante per farle una sorpresa e lei con il viso tutto impiastricciato prova una tale vergogna che non vuole più vedere l'amato e quindi ovviamente dice mi raccomando donne non mettetevi in una situazione di imbarazzo di questo genere perché poi non riuscirete più a vedere il vostro concupito, il vostro amato da tanto vi vergognate. Però agli uomini, perché lui è un magister amoris quindi lui dispensa consiglia uomini e donne e li dispensa in tutti dei casi. Agli uomini che hanno goduto di un amore di cui ormai si vogliono un po' sbarazzare allora gli uomini dice sapete cosa potete fare per sbarazzarvi di un amore che sostanzialmente non volete più? Benissimo, fate in modo di sorprendere le vostre amate nel momento in cui si stanno mettendo le creme di bellezza o le loro maschere perché a quel punto si saranno talmente vergognate dal farsi vedere in delle condizioni terribili che non vi vorranno più vedere quindi voi non dovrete nemmeno accampare delle scuse o cercare dei rimedi per abbandonarle perché saranno loro che vi abbandoneranno. Quindi ecco, diciamo dalla parte in cui si vuole leggere ecco, è importante non farsi sorprendere. vi erano diversi rimedi per la bellezza c'erano ovviamente le creme creme che potevano essere a base di lupini, fave e miele e questo per esempio era una crema particolarmente utile per quante volessero avere una pelle molto liscia oppure per quelle che avevano un colorito un po' spento sul volto potevano ravvivarlo con la feccia del vino e poi c'era l'esipo l'esipo era il grasso sostanzialmente che era attaccato alla lana delle pecore non lavate era un rimedio particolarmente utilizzato non solo in ambito cosmetico perché dava dei risultati importantissimi soprattutto come cura della pelle come diciamo antirughe ma anche come tocca sana per altri mali tra cui il mal di testa o l'epilessia vediamo bene che però oggi in molte creme viene utilizzata la lanolina che altro non è che una sostanza grassa ovviamente questa depurata che si estrae dalla lana delle pecore e poi c'erano ovviamente anche sostanze molto più raffinate per la cura della pelle come le midolla di cerva che erano utilizzate per ossigenare e rendere più bella la pelle e poi una maschera di importantissimo e grandissimo consume era il Lumentum che era fabbricata con la farina di fave e che serviva come maschera di bellezza per nascondere le rughe e a questo punto lavata, rinfrescata, depilata e ringiovanita con le sue maschere di bellezza la donna era pronta a truccarsi un video qui ci dà uno spaccato di quello che era il trucco ideale o il trucco più comune di una donna quindi la faccia sostanzialmente la pelle doveva essere particolarmente candida le guance però dovevano avere un colore rosio e se le guance non avevano un colore rosio in questo supplisce ovviamente l'arte e poi sempre con i trucchi si poteva marcare l'orlo delle sopracciglia se magari quello era un po' rado oppure venivano segnati gli occhi con un tocco di carboncino quello che tuttora altro non è se non l'eyeliner quindi però le labbra dovevano avere anche quelle un colore molto rosio veniva utilizzato un piccolo neo per dare ancora più risalto al candore del viso ecco in realtà quello che a noi oggigiorno potrebbe apparire un po' come una carnevalata tutto sommato era invece in età romana un trucco di gran moda e tanta era l'importanza del trucco che vi era una servo una detta specifica alla manipolazione dei belletti che era la cosmeta e molto spesso diciamo la diffusione l'uso comune allora come oggi di trucchi, di belletti per rendersi più affascinanti e più seduttive ci è testimoniato dalla quantità di contenitori che molto spesso si rinvengono negli scavi archeologici bellissima questa scatolina per il trucco in bronzo con il coperchio scorrevole con una decorazione molto raffinata ma poi numerosi erano contenitori di varie fogge più o meno raffinati spesso anche di materiali diversi tra cui primeggia l'ambra per esempio vi erano le spatoline spatoline che era ovviamente ad uso cosmetico ed erano utilizzate per miscelare per stemperare e per spalmare unguenti oppure belletti in polvere che venivano poi applicati Ovidio tra l'altro sottolinea come un bel aspetto lo dia una cura assidua e del resto lui scrive un poemetto un'operetta molto bella indirizzata proprio al pubblico femminile e dedicata incentrata sui rimedi migliori da utilizzare per rendersi più belli quindi su tutti i trucchi belletti che le donne potevano utilizzare per apparire più piacenti vi erano poi come contenitori ampiamente utilizzate le scatoline che anche in questo caso potevano essere utili per conservare per esempio dei belletti specie se questi erano in polvere scatoline che potevano essere molto semplici di forma rettangolare con il coperchio scorrevole oppure avere delle forme dei coperchi magari molto molto più particolari come in questo caso questa è la parte anteriore di una scatolina sarebbe diciamo il coperchio sostanzialmente scorrevole sotto agli incassi per inserirlo sostanzialmente nei binari e questo con vedete una raffigurazione di un busto riferibile al mondo dionisiaco probabilmente di Bacco stesso con una raffinatezza estrema ma altrettanto altrettanto raffinata è questa pisside in ambra con la raffigurazione di Ibis che recano nel becco dei serpenti che si attorcigliano che ovviamente rimandano al mondo dell'Egitto Giulia scusa non vediamo le slide ah non si vedono no non le vediamo adesso adesso allora adesso non si vedono no non le vediamo proprio allora provo a fare prova a rifare un attimo la condivisione adesso vediamo tutto grazie perfetto ecco queste erano appunto le le spatoline le le spatoline di cui parlavo prima e la scatolina in ambra con il coperchio la pistide con con l'Ibis e questa è la parte anteriore della spatolina scusate della scatolina con 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 il busto conformato a a a Dioniso e ovviamente diciamo dopo aver dato tutta una serie di suggerimenti sulla sulla bellezza del corpo sulla bellezza personale ovviamente Ovidio non poteva tralasciare di dare dei consigli anche su quello che era su quello che doveva essere il dress code secondo lui diciamo Ovidio si fa facitore di una di un'eleganza raffinata ma nello stesso tempo molto semplice lui per esempio critica le donne che si mostravano in pubblico sotto vesti che erano tessute d'oro perché in realtà quello che lui dice quello che avvince è l'eleganza un'eleganza che però deve essere semplice e quindi si chiede come mai le donne hanno questa smagna di aver indosso quasi tutto un patrimonio quindi Ovidio diciamo suggerisce alle donne di vestirsi in una maniera raffinata che però fosse semplice ma di fare molta attenzione alla veste che viene scelta e soprattutto al colore cosa che credo sia anche oggi di abitudine comune perché non a tutte si adatta e sta bene un colore e quindi Ovidio lo dice per esempio le donne che hanno una carnagione chiara privilegine una veste scura mentre il bianco starà certo meglio a chi ha una pelle bruna ma diciamo quando Ovidio critica in qualche modo l'uso diciamo delle donne di andare in giro con delle vesti particolarmente sfarzose suntuose evidentemente ci restituisce uno scorcio di quello che effettivamente doveva essere la moda comune cioè di donne che veramente andavano in giro con ostentando lusso e uno sfarzo e di questa ostentazione diciamo ci viene un piccolo diciamo un piccolo lacerto un piccolo frammento di quello che doveva essere l'ostentazione dell'oro e delle vesti e dell'oro e dei ricami sulle vesti da questo velo che ha perché proviene da una tomba incenerazione femminile ad Aquileia che ha cucite 203 applique in oro a forma di mosca con ali chiuse quindi sono delle piccole applique che hanno un foro passante nella parte inferiore e che sono state una a una cucite su questa veste e veramente doveva essere una veste lussosissima e sfarzosa tra l'altro sul motivo sulla scelta dell'iconografia della mosca la critica è un po' insomma si è posta qualche domanda probabilmente riconduce questa la raffigurazione a richiamo di pratiche magiche di tradizioni egizia quindi diciamo inserire sulla veste applicare sulla veste un oggetto che si voleva poi tenere lontano in questo caso l'immagine della mosca e probabilmente si crede se questa ipotesi risponde al vero che la defunta potesse appartenere a una particolare categoria sociale che era magari coinvolta in pratiche di culto orientali nelle sue opere Ovidio si concentra soprattutto sulla lana si sofferma sulla lana dicendo che è importante il colore della veste e lui offre un panorama di quello che potevano essere i colori con i quali i vestiti potevano essere effoggiati dicevo lui si sofferma sulla lana però vi erano numerose fibre anche di origine vegetale che erano ampiamente utilizzate come il lino la canapa la ginestra che potevano provenire sia dalle culture di piante sia dalla vegetazione spontanea si lavoravano ovviamente anche fibre di importazione e quindi non solo la lana però la lana era certamente la fibra più comune di origine animale utilizzata tant'è vero che l'allevamento degli ovini ricordiamolo era un'attività di primaria importanza e anche particolarmente remunerativa in tutto il sud Italia ma anche degli allevamenti importantissimi vi erano nel nord Italia e nell'Italia settentrionale orientale le razzovine peraltro venivano anche selezionate per migliorare la qualità dei velli per migliorare per esempio la bellezza la fittezza la morbidezza la lunghezza addirittura anche il colore proprio delle fibre e ovviamente le fibre venivano tinte in modo tale che i vestiti avessero i colori più diversi tra loro e venivano diciamo la colorazione era effettuata attraverso una serie di processi che venivano diciamo si basavano sull'utilizzo di sostanze che venivano ricavate dalle radici prima di tutto per esempio la radice di robbia veniva utilizzata per tingere di rosso ma venivano utilizzate anche sostanze ricavate dalle erbe per esempio l'erba lutea era utilizzata per tingere in giallo oppure dalle foglie il succo delle foglie di guado veniva utilizzato per esempio per tingere in un azzurro in un turchino oppure anche le sostanze che venivano tratte dai fiori come il succo della viola oppure la polvere di zafferano per tingere in giallo o ancora la ginestra sempre per tingere in giallo e poi vi erano ovviamente le tinture che provenivano dai diciamo dai animali che provenivano dai murici dalle conchiglie di murice e questo era per ricavare la porpora e quella però era una delle delle tinture più costose e più raffinate che solo una certa parte ovviamente di popolazione si poteva permettere particolarmente apprezzate erano le tinte vivace e di questa di questo gusto per i colori accesi ci offre non solo un riscontro video ma noi ne abbiamo diciamo di quello che dovevano essere le fogge dei vestiti e dei colori utilizzati noi abbiamo un riflesso nelle pitture pompeiane dove le protagoniste che possono essere figure mitologiche oppure figure impegnate in diversi contesti recano abiti come vediamo dalle tinte vario pinte le stesse tinte che Ovidio ci descrive quindi vesti di colore turchino vesti di colore rosso color viola a volte il color pallido più rosa oppure il colore giallo quindi veramente doveva esserci una varietà di colori e ognuno si ognuna si sceglieva il colore che meglio si adattava al proprio viso alla propria corporatura elemento diciamo fondamentale di seduzione femminile poi erano ovviamente le acconciature e diciamo il potere seduttivo di questo stratagemma era assolutamente ben noto Ovidio ed è rimasto io direi immutato allora come oggi e peraltro Ovidio trova riscontro non solo nelle sue opere dedicate appunto alla bellezza delle donne e all'arte dell'amore ma anche alle varie diciamo alle varie narrazioni mitologiche dove i protagonisti impegnati in storie a sfondo sentimentale vi fanno più volte ricorso per apparire piacenti e quindi conquistare così l'oggetto dei propri desideri per esempio pensiamo a Salmacide che diciamo per cercare in qualche modo di attirare l'attenzione del riottoso ermafrodito si ravive i capelli con un colpo di pettine non riuscirà poi ad avere l'attenzione di ermafrodito e infatti diciamo lo figurativamente li salterà proprio addosso nel senso che lo abbraccerà spregherà gli dei di rimanere attaccato a ermafrodito e quindi gli dei assolveranno questa sua richiesta e creeranno un essere un ermafrodito appunto un essere dalla doppia natura che conserva entrambe le caratteristiche maschile e femminile ma la stessa cosa farà Polifemo Polifemo il gigante il gigante scusatemi il ciclope dalle connotazioni ovviamente mostruose per apparire piacente alla bella Galatea si in qualche modo ravviva l'ispi da chioma lo farà con un rastrello però anche lui in qualche modo cerca di rendersi presentabile e di farsi bello e così fanno anche gli dei perché Mercurio per conquistare Erse si liscia ancora di più i propri capelli biondi e diciamo all'interno del medesimo ambito semantico legato all'esaltazione della bellezza e della seduzione si inseriscono tutte le coevi immagini di fanciulle intente a acconciarsi i capelli con grande solerzia e che noi vediamo ad esempio in un affresco proveniente dalla villa dei misteri oppure dalla villa di Aranna Stabia dove la giovane che è qui raffigurata si è intenta proprio ad acconciarsi una ciocca di capelli in un gesto che richiama il gesto della venera da Diomene che diventa il modello il paragone di bellezza ovviamente assolute la presenza peraltro costante dello specchio che diciamo di per sé è un oggetto dalla forte carica simbolica e dei molteplici valori metaforici però traduce sostanzialmente figurativamente la cura che le donne riservano al proprio aspetto e facendone di conseguenza delle sedutrici e lo specchio allora come oggi era l'oggetto più utilizzato nella toilette femminile e infatti Ovidio ha la cura di dire le donne mi raccomando acconciatevi i capelli tra le diverse fogge sceglietevi quella che vi sta meglio e per consiglio rivolgetevi allo specchio e infatti non solo questo diciamo questi consigli ovidiani noi li troviamo espressi non solo nelle raffigurazioni appunto ad affresco dove troviamo fanciulle che sono intenti a rimirarsi allo specchio ma anche nei numerosi specchi coperchi di specchi in bronzo che ci sono che provengono dagli scavi da Aquileia ma anche da Pompei alcuni di una fattura veramente raffinata raffinata ecco diciamo ovidio allora ovidio sulle capigliature insiste molto e lui si spinge anche oltre e dice che diciamo a parte il fatto di seguire la moda del momento però non tutte le acconciature vanno bene per tutti i tipi di visi quindi se una donna vuole in qualche modo valorizzare al massimo se stessa deve scegliere l'acconciatura che le sta meglio e lui dà dei consigli in questo senso e quindi a un viso lungo suggerisce di portare i capelli in una maniera molto semplice magari con una scriminatura centrale i visi rotondi invece è meglio che abbiano i capelli acconciati con una crocchia sulla nuca e che davanti i capelli scendano con delle ondulature a coprire le orecchie un altro viso invece prediligerà le chiome sciolte sulle spalle quindi varie acconciature per vari visi e addirittura Ovidio arriva a dire ad alcuni visi sta bene un'acconciatura che potremmo dire oggi spettinata sembra che sia sfatta scomposta da ieri e invece è tutto artificio magari fatto con grande cura attenzione e molto spesso fatica da parte delle ornatrici se le schiave addette appunto alla diciamo alla cura dei capelli delle loro padrone che molto spesso venivano sottoposte a delle torture indicibili perché a volte si conoscono episodi soprattutto raccontati in una serie di epigrammi in cui queste donne indispettite dal fatto che un'acconciatura non riusciva bene spesso pungevano anche le braccia delle povere ornatrici che cercavano di acconciare i capelli e al meglio possibile di come in realtà anche in età romana i capelli potessero essere acconciati in modi differenti e della cura che le donne riservavano alla capigliatura ci è diciamo ci è testimoniato da tutta una serie di elementi atti appunto a prendersi cura dei capelli dai pettini agli spilloni che potevano avere diciamo decorazioni molto raffinate e potevano anche essere di elementi vari particolarmente bello è questo spillone per capelli in osso che vedete nella slide che addirittura è conformato a testa mogliebre come vedete con una due corone di riccioli altrettanto complessi quali erano però le acconciature a cui Ovidio si riferisce e che effettivamente Ovidio vedeva quando usciva di casa partiamo dal presupposto che in realtà la capegliatura e le acconciature fu uno dei segni più evidenti nel mondo romano di una sorta diciamo di rivoluzione femminile anche perché nel 215 a.C. viene promulgata la Lex Hoppia che era una legge suntuaria e che però andava a interessare il lusso o diciamo l'esibizione del lusso solamente delle donne tant'è vero che le donne era diciamo dovevano per lo più andare in giro con capo velato non potevano allontanarsi per un certo raggio di casa con la carrozza dovevano limitare molto le ostentazioni del lusso questo perché si era in un momento particolare all'interno della seconda guerra punica quindi bisognava in qualche modo cercare di fare economia però l'economia viene rivolta solo al mondo femminile tant'è che diciamo sì le donne in qualche modo si ribellano si oppongono a questa legge che poi verrà definitivamente abolita alla fine della seconda guerra punica intorno al 190 avanti Cristo ecco però quali erano appunto le acconciature che Ovidio vedeva quando usciva di casa in età repubblicana c'è da dire che le acconciature erano abbastanza semplici rispetto a quelle che poi verranno utilizzate in età imperiale e prevedevano per lo più i capelli accomodati con una scriminatura centrale che appunto divideva la chioma chioma che a volta poteva essere raccolta sul retro in una sorta di crocchia la conciatura più nota era quella cosiddetta amelone di derivazione ellenistica che viene arricchita con una serie di riccioli sulla fronte e ovviamente questi riccioli sulla fronte e poi riccioli che si possono disporre anche sul collo quindi che scendono dal retro della capigliatura erano ovviamente il lavoro dell'ornatrix che con grande pazienza disponeva tutti questi riccioli sul volto della padrona e lo faceva molto spesso con un ferro esattamente non molto distante da quello che viene utilizzato ancora oggi con un ferro caldo rotondo sui quali venivano avvolti i capelli che poi prendevano la forma di riccioli e di boccoli particolarmente utilizzata in età augustea e poi la conciatura cosiddetta l'ottavia nome dato dalla prima diciamo donna che lo utilizzò che appunto ottavia la sorella di augusto l'imperatore sotto il quale con il quale appunto ovidio si interfaccia e peraltro ricordiamoci che ovidio sarà mandato in esilio proprio da augusto probabilmente anche per il fatto che ovidio cantava l'amore come abbiamo visto in tutte le sue forme i modi per conquistare per conquistare gli uomini o le donne a seconda del protagonista a cui ovidio si rivolge quindi questo andava in contrasto chiaramente con l'opera di riforma moralizzatrice che augusto invece aveva intrapreso e che quindi si ritrova ad avere un poeta che invece canta l'amore libertino e istruisce su come avere successo in un amore libertino ad ogni modo il ritratto l'acconciatura all'ottavia come vi dicevo è stata un'acconciatura appunto utilizzata dalla sorella di augusto come vedete caratterizzata da questo grosso nodus sulla fronte che viene poi portato sul retro in una treccia fino all'occipite dove poi i capelli sono raccolti con delle trecce e si avvolgono in una crocchia sul retro e questa è l'acconciatura di moda nella famiglia imperiale di augusto che viene portata con piccole variazioni da tutte le donne dalla moglie Lidia dalla figlia Giulia da Giulia Maggiore dalla nipote Giulia Minore ora scusatemi come vedete diciamo si tratta di acconciature abbastanza raffinate che però implicano nodo sulla fronte implicano trecce implicano capelli vaporosi e non è detto che tutte le signore all'epoca avessero masse di capelli particolarmente folte io per esempio non sarei mai riuscita a fare un'acconciatura di questo genere con i miei capelli quindi allora per avere delle acconciature alla moda dell'epoca venivano molto spesso utilizzati posticce toupé parrucche che si acquistavano in un negozio di grandissima moda che era collocato nel circo flaminio presso il tempo di Ercole e di questo Ovidio ci restituisce un'interessantissima descrizione con le donne che andavano tranquillamente nei banchetti e si sceglievano i capelli capelli che erano confezionati con capelli veri capelli neri venivano dalle donne dell'Oriente ed erano molto spesso capelli corposi belli spessi belli grossi per fare acconciature particolarmente voluminosi mentre invece più chiare e sottili erano i capelli delle barbere occidentali e qui Ovidio racconta nelle sue opere diciamo il gusto la smania femminile di andare un po' alla ricerca di questi capelli di queste parrucche di vari toupé per adattarsi e diciamo sfoggiare le acconciature più alla moda e lui proprio lo dice una donna della Germania ti manderà capigliature di spessi delle proprie capigliature e tu sarai tranquilla per il dono di un popolo su cui noi celebramo il trionfo peraltro con l'uso delle parrucche Ovidio anche qui ci dà degli episodi molto spesso gustosi cioè di una donna che anche qui viene sorpresa dal proprio amante e per fare in fretta si mette la parrucca ma se la mette al contrario quindi anche degli episodi un po' ridicoli e tutto questo però per dire alla donna mi raccomando fate attenzione non mostratevi mai impreparate diciamo il gusto per le acconciature è tipico non solo del mondo uvidiano ma trascorrerà per tutta l'età imperiale e la moda di acconciare i capelli subisce a partire dalla tarda età repubblicana e poi per tutta l'età imperiale grandissime variazioni che sono ovviamente dovuti ai gusti del momento le acconciature sono talmente specifiche e caratterizzanti che diventano degli elementi di datazione importantissimi per gli archeologi per datare un'epoca un ritratto una particolare dinastia infatti subito dopo subito dopo in età Claudia dopo qualche decennio dopo Ovidio dopo la morte di Ovidio i capelli sostanzialmente vengono sempre mantenuti con una scriminatura centrale con diciamo una maniera di acconciare i capelli molto raffinata molto semplice forse un po' più articolata rispetto a quella di età augustea perché i capelli devono essere ondulati ai lati della fronte ai lati con i riccioli sulla fronte e portate poi raccolti all'indietro in trecce e crocchie e è una pettinatura comunque che deriva dalla conciatura all'ottavia e viene utilizzata particolarmente da Antonia Minore la madre di Claudio e poi da Messalina la sua terza moglie in età nerognana iniziamo a vedere come vi sia un progressivo abbandono della scriminatura centrale a favore di una maggiore creazione di ricci sulla fronte ricci di vario tipo e di varie forme che poi esploderanno in tutta la loro fantasia nel secolo successivo stupendo è questo il cosiddetto Busto Fonseca che raffigura questa anonima donna femminile con questa diciamo corona di riccioli sulla fronte e è uno raffinatissimo nella sua artificiosità mentre invece sul retro i capelli sono raccolti in una crocchia appiattiti sulla fronte quindi capite bene che per avere un'acconciatura di questo genere tupè e posticci erano assolutamente necessari un ritorno a diciamo a una a forme più sobrie sostanzialmente si avrà a partire da dal regno di Adriano sua moglie Sabine infatti reintroduce l'uso di acconciature diciamo un po' più sobrie dopo comunque aver portato in gioventù anche lei improbabili e vistose pettinature nel corso del secondo secolo dopo Cristo le acconciature sono molto articolate non saranno più stravaganti come quelle che noi vediamo nel busto Fonseca ma saranno comunque molto molto articolate caratterizzate da trecce che variamente si dispongono sul capo fino poi ad arrivare a un drastico cambio di rotta in età severa quindi tra il secondo e il terzo secolo dopo Cristo perché è a partire proprio da questo periodo che termina un po' diciamo la il gusto per le acconciature frizzanti e stravaganti che aveva un po' caratterizzato tutta l'età imperiale romana le donne a partire da questo periodo non sfoggiano più con disinvolture gioia di vivere pettinature anche particolarmente artificiose le acconciature più in uso sono quelle cosiddette a tartaruga o ad elmo anche qui in questo anche in questi casi comunque venivano utilizzate delle parrucche però sono come vedete delle acconciature decisamente più sobree decisamente più dimesse si va verso una sorta diciamo di austerity pur con alcuni momenti di ritorno al passato però si va verso una nuova austerity imposta in realtà anche sostanzialmente dal rigore morale del cristianesimo quindi una volta che la nostra matrona si era lavata pulita rinfrescata vestita i capelli si erano agghindati nel modo a lei più conveniente la nostra dama è pronta a questo punto per ingioiellarsi e quindi per uscire poi di casa come dice Ovidio per guardare ma soprattutto per essere guardata ora abbiamo visto che Ovidio è fautore di una certa sobrietà l'abbiamo visto nei vestiti e lo rivediamo anche qui quando Ovidio parla dei gioielli lui tende per una raffinata eleganza Ovidio dissuade le donne dall'uscire di casa agghindate come se fossero dei lampadari cosa che doveva essere in realtà abbastanza usuale all'epoca perché lui racconta di queste donne che gravavano le orecchie con pietre costose oppure con un'opulenza talmente con una composità talmente esasperata che Ovidio dice guardate che questa cosa ci allontana più che avvicinarci a voi come uomini quindi probabilmente quello che lui vedeva era ricche matrone che uscivano con ingioiellate di tutto punto ma che però diciamo lui non apprezza effettivamente l'uso dei gioielli si diffonde in una maniera esplode sostanzialmente a partire dal primo secolo avanti Cristo una spinta a questa diffusione si ha ovviamente dalla maggiore quantità di ricchezza di pietre preziose e anche particolari che provenivano dai territori che venivano conquistati con 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 le guerre da parte di Roma quindi quelle che erano austere e morigerate matrone dell'età repubblicana che rispondevano ai dettami della morigeratezza si trasformano tra la fine del primo secolo avanti Cristo e l'inizio del primo secolo dopo Cristo in donne frivole agghindate di tutto punto che mostrano gioielli sfavillanti e di questa moda si lamenta anche lo stesso Tiberio in una lettera di Tiberio al senato Tiberio l'imperatore si chiede se fosse giusta quella smania femminile di portare le gemme a causa delle quali la ricchezza è trasferita presso i popoli stranieri ostili perché ovviamente per comprare determinati gioielli determinate pietre preziose che venivano da ogni angolo anche dall'Oriente ovviamente bisognava pagare quindi Roma e il popolo romano gli uomini romani dovevano pagare dovevano far venire ricchezze anche da terre con le quali non andavano d'accordo ora allora come oggi il gioiello più utilizzato più diffuso più in voga era certamente la collana collana di cui esistevano fogge tra le più variegate particolarmente diffuse anche perché abbastanza economiche non tantissimo però abbastanza economiche più economiche certo di quelle in oro erano le collane in ambra che erano particolarmente diffuse in Italia settentrionale anche perché si riteneva che l'ambra avessi il potere di tutelare dei mal di gola peraltro collane che mostrano delle decorazioni tra le più svariate in questo caso vedete una collana con dei simboli fallici perché erano diciamo ben auguranti avevano un valore apotropaico accanto a collane come vedete più semplici nella foggia abbiamo collane raffinatissime queste in particolare che racchiude un po' o la maggior parte dei materiali utilizzati nella gioielleria romana e cioè l'oro la madre perla gli smeraldi questa è una collana raffinatissima che proviene da Pompei e poi abbiamo collane anche molto articolate a doppio nodo come questa formata con diciamo è a catena con i pendenti che addirittura hanno la conformazione di foglie e questa è stata rinvenuta a Pompei tra l'altro ancora addosso allo scheletro di una di una di una ragazzina che il cui scheletro è stato appunto rinvenuto all'interno a Pompei altro must have sostanzialmente del mondo femminile nella del mondo femminile in età romana erano gli anelli anelli anche in questo caso esistevano forme materiali tra i più diversi e tra i più variegati grande favore aveva soprattutto l'oro in particolar modo l'oro con le gemma che piaceva particolarmente proprio per il contrasto che si aveva tra il colore giallo dell'oro e i colori più diversi più variegati di gemme che si potevano incastonare molto diffuse erano gli anelli in ambra anelli in ambra che erano ovviamente un po' meno costosi rispetto agli anelli in oro ed erano anche questi tra i più variegati come decorazioni e in particolare questi che vedete nella slide mostrano il castone conformato a busto femminile probabilmente per la volontà delle matrone di immortalare se stesse oppure il proprio genio su anelli che venivano in realtà indossati un po' come degli status symbol e tra l'altro l'ambra era particolarmente apprezzata anche per diciamo il profumo che da esso promanava dal calore del materiale a contatto con la pelle e poi appunto abbiamo detto che in realtà era l'oro il diciamo il materiale più utilizzato per il confezionare anelli anche questi i più diversi nella forma vi erano anelli più semplici a quelli più complessi e raffinati per quanto concerne la lavorazione il modello più diffuso comunque era costituito da diciamo dall'anello in oro sul quale veniva poi incastonata una gemma che poteva essere liscia o incisa le gemme materiali tra i più diversi la più diffusa era la corniola soprattutto per il suo uso sigillare anche perché sulla corniola non si attaccava la cera e quindi fungeva benissimo a questo scopo e tra l'altro anche Ovidio ce lo ricorda Ovidio dice che lui vorrebbe essere la gemma con la quale la sua amata sigilla le lettere perché prima di attaccarsi la cera lei lo avrebbe avvicinata alla bocca e quindi in qualche modo avrebbe potuto toccare le labbra della propria amata infine un altro grande diciamo elemento di decorazione femminile erano gli orecchini anche in questo caso gli orecchini erano più vari alcuni molto articolati delle fatture più diverse ed erano uno anche in questo caso uno dei più tipici elementi dei più tipici ornamenti femminili erano molto ricercate da parte delle donne romane che facevano quasi in realtà a gara per avere i modelli più ricchi più costosi e più belli e molto spesso suscitavano in questo caso la riprovazione degli uomini per esempio giovenale si chiede perché le donne devono appendersi all'orecchie queste perle che allungano i lobby a causa del loro troppo peso oppure anche Seneca si chiede da dove esciva fuori questa follia femminile con le donne che sostanzialmente si appendevano all'orecchie due o tre patrimoni interi gli orecchini diciamo più diffusi comunque erano quelli in oro sono quasi sempre in oro gli orecchini ed erano spesso impreziositi da perle molto molto diffuso era peraltro questo orecchino con pendente duplice chiamato erano detti cortaglia perché qui bisogna immaginare il pendente con due piccole perle ed erano così chiamati proprio per il tintinio che le perle diciamo che veniva prodotto dall'urto delle perle quando le donne camminavano e quando l'orecchino si muoveva e poi in ultimo i bracciali i bracciali erano un'altra prerogativa della gioielleria di una donna venivano portati ovunque ai polsi ma venivano portati anche le braccia le famose armille da armus che appunto significa braccio ma venivano portati anche le caviglie e potevano essere avere le forme più differenti e potevano essere di materiale differente in avorio in ambra in argento in oro ovviamente il costo variava a seconda del materiale utilizzato ad ogni modo la più tipica forma di bracciale era a serpente e poteva essere o a corpo di serpente semplice oppure con le due teste di serpenti affrontati e la forma del serpente era la più diffusa non solo perché ben si adattava a un bracciale ma anche perché diciamo aveva un significato quasi apotropaico che il rettile riveste perché diventa simbolo della fecondità è connesso al mondo isiaco al mondo dionisiaco ma viene molto spesso anche associato ad altre divinità salutifere come Asclepio o Igea è chiaro che tutto questo mondo che io vi ho raccontato della gioielleria era legato alla capacità economica di una donna quindi le donne tendevano comunque anche quelle con minor capacità economica ad avere degli anelli magari con delle semplici paste vitre le grandi matrone mogli di senatori andavano in giro completamente agghindate e ricoperte d'oro quindi l'uso ovviamente dell'uno o dell'altro materiale dipendeva ovviamente dalla capacità di spesa di una signora e a questo punto la donna era pronta per uscire di casa e Ovidio lo dice lo dice chiaramente uscite di casa perché la folla voi signore vi è utile e quindi fuori dalla casa portate spesso il rabbon di piedi perché ciò che si conosce rimane ignoto e quindi non lo vuole nessuno perché nessuno lo conosce la bellezza sconosciuta non dà frutto e inoltre alle donne dice mi raccomando di arrivare sempre in ritardo perché l'arte di farsi attendere è una gran ruffiana ecco io insomma ho cercato un po' di delinearvi quello che era la preparazione femminile di una di una donna in età romana e insomma io vi ringrazio della vostra attenzione di avermi seguito spero che questa passeggiata nelle varie fasi di preparazione vi abbia in qualche modo divertito incuriosito e io vi saluto e vi auguro una buona serata di un'altra Grazie a tutti.